Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Quello in arrivo sarà domenica ecologica, la quinta e ultima della stagione invernale, previsto lo stop al traffico privato nella fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Come di consueto ci saranno delle deroghe. Tra i veicoli esentati dal blocco ci saranno le auto a benzina Euro 6 e poi ancora quelle elettriche, ibride, a GPL, a metano e B-Fuel. Via libera anche alle auto con il contrassegno disabili, ai veicoli dei servizi di sharing, ai ciclomotori a due ruote con motore 4 tempi da Euro 2 in poi e ai motocicli, sempre 4 tempi, Euro 3 e successivi.